I don't want to love you Buonasera e benvenuti a Vastella Azzurra per l'ottava giornata di Serie A della Lega Calcio 5 Tibur Superbum contro Atletico Barbosa Tibur in avanti con Alessandri dalla media distanza Alessandri c'è una deviazione è il gol dell'1 a 0 i verdi con Costanza in attacco qui fallo laterale battuto c'è la sfera che sfugge al portiere raddoppio di Alessandri 2 a 0 Barbosa in difficoltà allora prova ad inferire Tibur Superbum con l'azione alla mano 1-2 che si chiude e Farina segna il gol del 3 a 0 per i suoi manovra fluida per quanto riguarda i ragazzi in maglia verde che qua vanno a liberare Casciaro che rientra sul destro e batte il portiere avversario per il poker Tibur Superbum Verdi ancora in contropiede con Casciaro, Casciaro che se ne va e 1 contro 1 con Balduini non sbaglia pokerissimo Tibur 5 a 0 azione manovrata da fallo laterale l'1-2 è uscito a farfalle Balduini ed è la doppietta anche per Farina, gol del 6 a 0 azione sempre dalla banda destra a cambiare gioco da quest'altra parte dove Casciaro è tutto solo e può piazzare ancora sul primo palo Casciaro, gol del 7 a 0 Tibur Superbum in totale controllo tutta scoperta la difesa dell'atletico Barbosa ed è troppo semplice per Mingrone segnare l'ottava rete per i suoi nel primo tempo è una caporetto per il Barbosa che qui prova a rientrare ma subisce ancora l'azione dall'ala destra con Alessandrini che trova alla rete la sfera che passa 9 a 0 l'atletico Barbosa che non reagisce qui ancora costretto sulla difensiva l'assista a destra dove può controllare il compagno che riserva Alessandrini doppietta anche per Alessandrini 10 a 0 Onologo, grina anche nella ripresa occhio a Casciaro, Casciaro 1 contro 1 Casciaro mette a sedere il portiere riesce a resistere anche alla carica e trova il gol dell'11 a 0 per i suoi l'atletico Barbosa che perde palla malaventa al centrocampo allora ancora Casciaro 1 contro 1 12 a 0 azione manovrata del Tibur Superbum che non vuole proprio fermarsi allora Casciaro il cross e ci mette la faccia facendosi anche male Angelini per il 13 a 0 Barbosa in gran difficoltà qua riesce a uscire ma viene ancora fermato nella propria azione da Angelini stavolta segna senza farsi male col destro 14 a 0 senza pietà Tibur Superbum ancora in avanti con l'azione manovrata la palla che torna da Casciaro ancora gol 15 a 0 Barbosa che prova a uscire ma qui un tacco insensato da parte di Tosoni che lancia il 2 contro 0 Casciaro 16 a 0 può andare a lancio lungo la Tibur Superbum in avanti con Casciaro che stoppa e poi lascia a porta vuota a Farina che fa 17 a 0 occhio a Casciaro rientra sul destro Casciaro ancora con Farina gol in fotocopia 18 a 0 Tibur Superbum tirano a spingersi in avanti i ragazzi in maglia verde e qui c'è un buon dribbling da parte di Mingrone Mingrone che lascia lì il pallone a Farina tripletta di Farina 19 a 0 Atletico Barbosa che sbaglia ancora in uscita allora Angelini 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 le sue finte Angelini 20 a 0 Tibur Superbum l'impostazione con la sfera cambiata sul settore sinistro Farina ancora servito e ancora a porta vuota 21 a 0 Tibur Superbum azione ancora affidata al giropalla costante Tibur Superbum che passa dalla destra per Cacciaro che salta ancora facile in dribbling veste ancora i panni dell'assistman 22 a 0 di Alessandrini Cacciaro parte dai blocchi cede la sfera che viene rimparlata l'azione continua per la Tibur Superbum e Cacciaro col mancino la mette dentro per il gol del 23 a 0 occhio ancora Tibur Superbum sulla sinistra ormai sono fermi i ragazzi dell'Atletico Barbosa l'azione che continua dall'altra parte c'è un cross e l'ennesima rete di Farina quella del 24 a 0 su cui arriva il tripice fischio del direttore di gara partita a senso unico stravinta dal Tibur Superbum contro l'Atletico Barbosa beh io lo ringrazio a tutti noi che comunque abbiamo preso così sto torneo però ovviamente c'è i risultati non so dalla nostra certo ci mancavano alcuni elementi come Marco Cristian e Massimo il ninja però certo questa è la prima volta che facciamo il campionato vediamo se altri anni intanto facciamo un po' di fiato pure una sgambatella ecco ci vuole pazienza e per noi come aggiungo come ha detto Marco probabilmente è il primo anno che facciamo questo torneo siamo nuovi quindi ci vuole pazienza e speriamo che il prossimo anno magari col prossimo torneo riusciamo a fare meglio sicuramente